Allegretto didattico Personaggi Soprano Il custode Dole mi passò a corrire da All'alzarsi del sipaglio E' mattina Il soprano solfeggia Mentre sale agli uffici Della soprintendenza Della scala di Milano Il soprano Alle scale Nelle scale Della scala Della scala Della scala Vivo ed elettrizzante Della scala 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 Personaggi Il signor Arturo Della scala Della scala Della scala Della scala Della scala Dopo aver guardato fuori dalla finestra, saggira tra gli invitati e si avvicina al signor Arturo. Che fai il galletto in un verchio di belle signore. Guardi, io, la vostra e la vostra. Guardi, io, la vostra. Santo Ceno No! ... ... ... ... Spavento, spavento. Andantino minuzioso. Personaggi. Il microbo. Il padre del microbo. Il c'er burnout. No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti